Siamo arrivati alla fine di questi cinque giorni intensi, un grande lavoro di progettazione, di organizzazione da parte di un gruppo straordinario che desidero ringraziare, così come ringrazio tutti coloro che rendono possibile Luca Classica Music Festival e che lo seguono. Il ringraziamento ovviamente va allo straordinario pubblico che ancora una volta ha seguito numerosissimo il programma del festival, agli artisti, ai ragazzi delle scuole, ai giovani musicisti, ai loro insegnanti, ai dirigenti, perché questa è veramente una manifestazione corale che ci restituisce un'anima della città nelle sue diverse sfaccettature culturali, musicali e di questo siamo particolarmente felici ed orgogliosi. Quindi l'appuntamento va al prossimo anno, dal 23 al 27 aprile 2025. Grazie.